Go! Siete qui oggi per provare un'emozione fantastica non sono così presuntuoso non grazie a me ma soprattutto grazie ad Absolute Vodka che mi permette di fare questo cocktail molto buono Ne voglioni! Bravo! Ciao a presentazioni, io sono Giovanni e insieme a me ci sarà il mio back bar oltre ad Abby voglio presentarvi Sclero lui è mio caro amico, nonché barback nonché tutti noi spero fra un sacco di anni perché quando uno è barman lo è per sempre andiamo a preparare questo cocktail in coppetta è un cocktail Shake & Strain dal duplice volto è un cocktail che può essere più dolce e più secco a seconda di come noi andiamo a dosarlo con la camicia penso che non mi rimanga altro che farvi vedere la preparazione prego andiamo avanti con la musica Ready? One, two, three, four qui va bene e insistevo, lo lasciate tutti vi figli tutti oh wow oggi becchia ma semplice e questo è stato buono andiamo a usare che è solo una celluletta live perché? io ho notato il florevo e il vodka è assolutamente l'assoluta vita ma se non c'è troppo molto per i vostri ma penso che avessi trovato live, lo zentro sono due le carte per questo lavoro perfetto non rimane altro che andare a versare la vodka e qui se ne è il perché tu ho trovato un assoluto da il mondo 4A, 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 4A questo è il progetto e non c'è ancora 4 posso fare il solo che mi stai? posso fare il solo che mi stai? posso fare il solo che mi stai? bravo non c'è ancora No! Prego! Siamo in tre quartiere? Sì! Sì! Allora! Grazie! Stai bene con il mio testo! Mi sarebbe accaduto! non è venuto per la stessa? si, vuole fare questo tutto no, ma fai come vuoi! grazie, grazie grazie applausi, grazie grazie a tutti grazie io la pesca vado ovviamente sono deciso di usare la mia stessa però un po' bravo di peraltro piaccio abbiamo bello, no? vai a fare il culo dovete sapere che non faccio parte delle cose che riguarda la signora non so che ci sono anche l'inquiazione no, ma compro i trattini uguali, eh grazie grazie anche il signor per la correntura dei film è un periodo difficile, c'era crisi proprio di tempo che marmona via andiamo a mettere i suoni di chiere per la stabilità facendo cambiare il frutto in maniera altri 40 secondi dai dai ho finito, ho finito un po' va bene, se riesco a fare questa cosa potrei anche dire che è molto bella andiamo a versare il forte sicuramente tu guarni, guarni troppi, troppi 10 secondi Tanto ho portato avanti No, mezzo giusto 5, 4, 3, 2, 1 E' nel copione, quello che ha sparato ha vinto, Diego Dai! Si, ma dai che puoi sparare così tanto, eh? Che cazzo! Cioè, hai 20 secondi, eh? Dai pervi